Pubblicati all'albo pretorio del comune di Caltanissetta gli impegni di spesa per manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi mesi. 2.800 euro è la somma che verrà elargita all'Associazione Culturale Art in Motion per partecipare alle spese relative alla direzione artistica delle Memorial Nuccia Grosso, evento che si svolgerà al Teatro Regina Margherite che per il quinto anno consecutivo conferirà il premio al giornalismo e alla cultura dedicato alla giornalista nissena scomparsa nel 2009. 15.000 euro alla Massimo Pastorello Management per la realizzazione delle Med Moda 2017, il festival internazionale di moda alla ventunesima edizione che si svolgerà sempre al Teatro Comunale. Anche l'Associazione Culturale Anzi Chitanza riceverà il contributo di 5.000 euro per l'evento musicale Punto e a Capo che si svolgerà il prossimo 28 gennaio al Centro Culturale Polivalente Michele Abate. Assegnati anche i contributi per le associazioni sportive che hanno svolto l'attività nel corso del 2016 per un totale di 19.121 euro. Le somme più consistenti, pari a 3.000 euro alla Nissa e la stessa somma alla Nissa Rugby. 2.000 euro alla Polisportiva Cusne alla Invicta Basket, 1.500 Audax di pallamano e 1.200 per la Pro Nissa di calcio a 5. Il resto della somma totale è suddiviso tra le altre società e associazioni sportive. Il resto della somma totale è un'attività.